Ok, rilasso al collo. Oggi vedremo l'esempio di una manipolazione vertebrale. In particolare andremo a manipolare la seconda vertebra cervicale, C2, che ha molte connessioni con i classici mal di testa, a volte anche con le vertigini, e soprattutto a causa delle connessioni con alcuni muscoli della mandibola può essere, quando in disfunzione, una delle cause dei disturbi classici all'articolazione della mandibola. Quindi andare a manipolarla può aiutarci non solo a stare meglio a livello cervicale, ma anche a livello dell'occlusione. Grazie a tutti.